Il principe Harry ha causato uno tsunami di paura nella famiglia reale dopo aver annunciato che pubblicherà un libro di memorie sulla vita reale. Il duca del Sussex ha causato l'eruzione della famiglia reale nel caos poiché non sapevano che stava pianificando di pubblicare un libro bomba. Una fonte ha detto che il prossimo libro rivelatore ha suscitato paure in famiglia fin da quando hanno lasciato la vita reale, Harry e Meghan hanno affermato dopo aver affermato di essere stati trattati, ha detto una fonte al Mirror. Dicono che è la loro verità. Ma c'è sempre una sola verità. Dalla loro intervista con Oprah Winfrey, le tensioni sono diventate molto alte poiché gran parte di ciò che hanno detto da allora si è dimostrato inaffidabile nella migliore delle ipotesi. C'è ora uno tsunami di paura tra i reali per ciò che Harry scriverà. Molti sperano che possa correggere alcune cose. Ma non hanno molte speranze. Lunedì il Duca ha annunciato una collaborazione con l'editore Penguin Random House. Una trascrizione doveva essere consegnata il mese prossimo. Tuttavia, è stata ritardata in seguito alla nascita di Lilibet. Il secondo figlio dei Sussex. Verrà pubblicato anche un audiolibro. Tuttavia, una data di uscita per entrambi deve ancora essere annunciata. Questo è in seguito alla notizia che l'annuncio del Duca ha colto di sorpresa la famiglia reale. Nessuno lo sapeva. Ha detto a Page Six un membro reale. C'era il caos quando è uscita la storia di Page Six. Il ricavato del libro andrà in beneficenza. Tuttavia, non si sa ancora quanto sarà donato. Si dice che il libro di memorie includa gli alti e bassi del principe. In una dichiarazione, Harry ha dichiarato. Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni. Sia in senso letterale che figurato. E la mia speranza è che nel raccontare la mia storia agli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l'opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero.